A come acqua. Io sono Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista, e questa è l'auspabeto nutrizionale, la serie nella quale andremo a esplorare lettera per lettera vari aspetti della nutrizione. Partiamo con la prima puntata con l'acqua. Quindi andremo a capire perché è importante bere e quanto dobbiamo bere durante la giornata, perché molte, molte, troppe persone bevono troppo poco. Nella mia pratica ambulatoriale, parlando con i pazienti, quando faccio la fatidica domanda quanta acqua beve, moltissimi, troppi, mi rispondono troppo poco. Oppure altri mi rispondono no, ma io bevo veramente tanto. Io chiedo allora, ok, quanto beve per quantificare? Ma anche certe volte arriva addirittura un litro e mezzo. Beh, un litro e mezzo non è tanto, ok? Il litro e mezzo di solito è il minimo sindacale. Quindi ecco, c'è in alcuni casi un'errata percezione di quanto si sta bevendo. In altri casi proprio si beve poco e lo si riconosce che si beve poco. E quindi adesso andiamo a capire perché è importante bere e come fare a capire se stiamo bevendo a sufficienza. E magari qualche trucchetto per bere un po' di più se ne abbiamo bisogno. Il nostro corpo è costituito per la maggior parte da acqua, appunto. Quindi avere un riciclo di acqua è fondamentale per mantenere il nostro corpo in salute. Molte funzioni biologiche vengono fatte grazie all'acqua e dentro l'acqua. Quindi nel momento in cui noi beviamo poco, quindi non abbiamo un corretto, diciamo, approvvigionamento idrico, il nostro corpo attiva dei meccanismi di difesa da questa scarsità d'acqua per riuscire a far fronte a questa punta. Nel momento in cui noi non beviamo a sufficienza, il nostro corpo recepisce un messaggio di pericolo. Vuol dire che per il nostro corpo l'acqua sta scarseggiando. Non lo sa il nostro corpo che siamo noi a decidere di bere poco per un motivo o per un altro, ma pensa che l'acqua proprio non sia disponibile. E se l'acqua sta scarseggiando è probabile che prima o poi finirà. Quindi che cosa succede? Vengono attivati dei meccanismi che permettono al nostro corpo di sopravvivere, perché il nostro corpo una cosa la sa fare benissimo, ed è sopravvivere, quindi di adattarsi alle situazioni avverse, climatiche, ambientali, eccetera, per sopravvivere. E quindi ecco che si attivano dei meccanismi di risparmio dell'acqua. Quindi in alcuni casi aumenta la ritenzione idrica, perché il nostro corpo trattiene i liquidi in attesa appunto di utilizzarli nel momento di bisogno. E si avranno problematiche intestinali, magari portando la stitichezza, perché il corpo richiama acqua anche dalle feci, quindi rendendole più dure. Ci potranno essere anche problematiche a livello cognitivo, mal di testa, difficoltà di concentrazione, una stanchezza generalizzata, più tanti altri problemi che magari immediatamente non riusciamo a ricollegare col fatto che stiamo bevendo poco, ma fanno parte del grande quadro di uno scarso apporto idrico giornaliero. Ci potrebbero anche essere dei problemi collegati al peso, perché nel momento in cui noi beviamo troppo poco il corpo rallenta in parte il metabolismo per non consumare acqua e quindi ecco che andiamo a consumare meno energia durante la giornata perché stiamo bevendo troppo poco. Ciò non vuol dire che se beviamo tanto allora il metabolismo accelera. Questa qua è una concezione un pochino sbagliata e deriva da una non corretta interpretazione di questo fenomeno. Cioè se beviamo troppo poco allora il metabolismo potrebbe rallentare, ma se beviamo tanto il metabolismo non accelera, funziona alla sua velocità normale. Quindi ecco che i segnali che stiamo bevendo poco sono tanti e spesso e volentieri in realtà di difficile interpretazione, perché magari se soffro di mal di testa non vado a pensare, ah, sarà perché sto bevendo poco, pur essendo uno dei sintomi del scarso approvvigionamento idrico quotidiano. Uno dei meccanismi per capire se stiamo bevendo poco è quello di analizzare il colore delle urine. Questo perché nel momento in cui noi beviamo poco le urine saranno più concentrate e quindi avranno un colore molto più scuro del normale. Quindi se le urine durante la giornata, non quelle del primo mattino che sono sempre scure, sono tendenti all'oscuro o addirittura sono molto scure, vuol dire che stiamo bevendo molto molto poco. Se invece sono chiare tendenti al trasparente, vuol dire che stiamo bevendo a sufficienza. Questo diciamo che è un trucchetto che ci permette di valutare in maniera istantanea se stiamo bevendo troppo poco o se stiamo bevendo in maniera diciamo sufficiente. Se invece le urine sono completamente trasparenti e andiamo in bagno ogni tre minuti a far pipì e non ci sono altre patologie ovviamente di cistiti o altro, ecco che molto probabilmente stiamo bevendo troppo e dovremmo magari un pochino rallentare perché comunque bere troppo a quel punto diventa solo un fastidio perché vuol dire che andiamo in bagno ogni tre minuti e non abbiamo nessun beneficio. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna bere il giusto. Il giusto appunto è personale, ognuno di noi beve una quantità di acqua diversa perché abbiamo bisogni diversi e fa bisogni idrici diversi. Io ad esempio in alcuni momenti arrivo a bere anche 5 litri d'acqua al giorno, altre persone con un litro e mezzo o barra due sono già più che a posto. Quindi è una questione molto soggettiva, dipende anche da quanto si attivi, se si fa attività fisica, che tipo di attività fisica, se si ha una muscolatura più o meno sviluppata, perché il muscolo è un tessuto molto molto idratato, quindi nel momento in cui noi abbiamo una massa muscolare superiore alla media, abbiamo anche bisogno di una quantità di acqua superiore alla media. E via discorrendo. Quindi diciamo che non c'è una quantità standard, che vale per tutti, però appunto con questo giochetto di guardare il colore delle urine, riusciamo abbastanza agilmente a capire se stiamo bevendo in maniera adeguata o meno. Diciamo che però quel famoso litro e mezzo è un buon punto di partenza dal quale iniziare per poi valutare la giusta quantità di acqua per noi. Alcuni potrebbero obiettare ma io bevo secondo il mio senso della sete. Il punto è che ascoltare il corpo in questo caso è sbagliato, perché il senso della sete è un senso che va innanzitutto educato. E quindi se siamo abituati a bere poco, avremo a lungo andare un senso della sete molto ridotto, e quindi non ci verrà sete e saremo abituati a bere poco, ciò non vuol dire però che stiamo facendo bene. Di contro potrebbe essere alterato da situazioni, per esempio patologiche, potrebbe essere alterato anche da una questione di età, perché man mano che passano gli anni il senso della sete tende un pochino a diminuire, cioè le persone anziane hanno un senso della sete molto 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 ridotto rispetto ai più giovani, ma ciò non vuol dire che abbiano meno bisogno di acqua, semplicemente è una questione dovuta all'invecchiamento. E quindi ecco che seguire semplicemente il senso della sete non è proprio corretto, corretto, a meno che non abbiamo un sano senso della sete. Ecco, e allora il discorso cambia. Però come facciamo a capire se abbiamo un sano senso della sete? No, lo capiamo finché appunto non... Facciamo il giochetto per esempio delle urine, vediamo che la nostra sete, quando soddisfatta regolarmente, ci permette di avere delle urine chiare, di non andare in bagno ogni tre secondi, ecco che allora in quel caso abbiamo un senso della sete sano e che possiamo assecondare. Però appunto non fidatevi solo di quello, perché spesso e volentieri il senso della sete ci inganna, perché appunto da un lato va educato, dall'altro ci possono essere le componenti, che possono essere l'età, ma non soltanto, che possono alterarle. Molte persone quando iniziano a bere un po' di più accusano il problema di andare in bagno ogni tre secondi, perché a quel punto dicono, beh, allora forse sto bevendo troppo a questo punto, in realtà no. Cosa succede? Quando noi non siamo abituati a bere, e quindi abbiamo nel frattempo accumulato dei liquidi sotto forma di ritenzione idrica, quando iniziamo a bere in maniera corretta, il corpo si libera di quella ritenzione idrica che aveva accumulato, perché a quel punto è semplicemente un extra, che non ha nessuna utilità, perché stiamo bevendo a sufficienza. Quindi il corpo se ne libera. Ma come se ne libera? Se ne libera attraverso le urine. Quindi cosa succede? Succede che andiamo a fare più pipì del normale. Perché? Perché andiamo a fare una pipì, diciamo, normale rispetto all'acqua che abbiamo bevuto, addizionata a quella ritenzione idrica che stiamo via via perdendo. Quindi i primi tempi, quando si inizia a bere un po' di più rispetto a quanto non si facesse prima, è possibile avere appunto questo fastidio di andare in bagno un po' troppo spesso. Purtroppo è un fastidio che va sopportato, perché, come si suol dire, prima di stare meglio si sta un pochino peggio. Quindi c'è questa, diciamo, problematica da sopportare per qualche giorno. Di solito in una settimanina ce ne liberiamo, alcune persone hanno bisogno un pochino più di tempo, però di solito una settimana è più che sufficiente per riuscire a riequilibrare il corpo e poi andare in bagno normalmente, con la frequenza corretta, senza appunto passare le giornate a fare pipì per eliminare appunto questi liquidi in eccesso. Quindi bere poco è un problema sia per il nostro fisico in generale, per una miriade di funzionalità che vengono compromesse da una scarsa assunzione di acqua giornaliera, sia anche dal punto di vista estetico, perché avremo ritenzione idrica, una pelle più secca e altre problematiche, diciamo, estetiche, che per carità danno fastidio, ma quindi perché tenercele quando le possiamo risolvere con poco. E quindi poi basta molto banalmente osservare le urine per riuscire a capire se stiamo bevendo a sufficienza o meno. Quindi come fare a bere di più? Che trucchetti possiamo applicare per bere un po' di più? Diciamo che di trucchetti se ne possono applicare diversi. Uno è quello di avere l'acqua sempre a portata di vista. Cioè, stiamo lavorando sulla scrivania sempre con la bottiglietta d'acqua, la borraccia o quello che è, sempre a portata di vista, in modo tale che anche con la colla dell'occhio vediamo la borraccia. Avere magari una borraccia graduata, in modo tale che ci permetta di capire quanto effettivamente stiamo bevendo. Adesso in commercio ce ne sono di tanti generi e specie diverse con varie, diciamo, scalettature che ci permette di capire effettivamente quanto abbiamo bevuto. Altra cosa, si può insaporire l'acqua. Ci possono utilizzare degli insaporitori, possono per esempio bere delle tisane, degli infusi, oppure aggiungere degli insaporitori, se ne vendono di ogni genere specie, sotto forma di goccine, sotto forma di cubettini che si sciolgono, oppure altre tipologie che possono insaporire l'acqua, in modo tale da darle appunto un gusto e quindi magari andiamo a bere anche per, diciamo, gola, mettiamola così, e non solo per sete, finché appunto non ci abitueremo a bere normalmente l'acqua nelle qualità corrette. Un altro trucchetto che si può utilizzare per aiutarci a bere di più e ricordarci di bere, perché quello che mi dico a tante persone è, doc, io mi scordo di bere. Io onestamente non capisco come ci si possa dimenticare di bere, perché io me lo ricordo di bere, cioè c'ho sete e bevo, però vabbè. Però esistono tante app, siamo, ormai siamo nell'era delle app, esistono anche tante app che ricordano di bere. Sono banalmente delle sveglie che ogni tot tempo fanno suonare appunto un allarme, dicono, ah, ricordati di bere, hai bevuto? Ok, uno beve il suo bicchiere d'acqua, poi segna sull'app, ho bevuto un bicchiere d'acqua, bene, te ne mancano sette, perché uno magari poi imposta anche quanto un limite, diciamo, da raggiungere, quindi un risultato da raggiungere giornaliero, e a quel punto ecco che l'app di volta in volta, ogni totto di tempo, ci ricorda di bere, se magari ce lo scordiamo. Quindi diciamo che le possibilità di bere di più sono tante, quindi insaporitori, tisane, infusi, le app che ce lo ricordano, avere sempre l'acqua sott'occhio, quindi sulla scrivania, ovunque vogliamo, quindi avere sempre la bottiglia d'acqua pronta, e una borraccia graduata che ci permette di capire se effettivamente abbiamo bevuto a sufficienza, e quindi di anche incrementare in questo modo l'apporto idrico, perché se vediamo che per esempio abbiamo bevuto una borraccia da un litro e mezzo, per esempio, vediamo che siamo arrivati a metà, sappiamo che dobbiamo ancora finirla di bere, perché magari ci sono posti come obiettivo di finire quella borraccia, ecco che di volta in volta ci può aiutare ad arrivare a risultati che stiamo cercando di ottenere. Quindi bevete, bevete, bevete quest'acqua che è fondamentale per essere in salute sotto tanti punti di vista, perché appunto se beviamo poco andiamo incontro a una serie di problemi più o meno fastidiosi che vanno dalla fitichezza, la stanchezza, pelle secca, occhi secchi, occhi stanchi, stanchezza mentale, mal di testa, e anche alterazioni del sonno e tutta una serie di altre problematiche che non è piacevole avere. Quindi io mi fermo qui, ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, noi ci vediamo con la prossima lettera, la B, e mi raccomando, sempre carichi e motivati!